Andrea ha terminato il suo massaggio con Federica ed è pronto per tornare in villa a finire quello che ha iniziato ma c'è ancora un primo appuntamento da vedere non sei mai stato su un elefante? eh si, ho visto l'elefante e mi sono gasato un sacco sinceramente perchè è un'altra cosa che ho sempre voluto fare non sei mai salita su un elefante? no, no, io sento di guardare il mio amicatore abbiamo un taglio qui no, no, no ragazzi veramente diamo in acqua non potete creare in the order of the bout show your best io marco sull'elefante posso fare domande senza senso round one, fight no, no, no no, no 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 Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie. Grazie. Grazie per aver guardato il video. 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 Grazie per aver guardato il video.